nuovo unboxing questa volta di sephora avete già spiato allora ho approfittato dei single days c'erano c'era tipo il 30 il 40 per cento di sconto olive ma anche i vostri gatti hanno questa attrazione per le scatole il doppio di loro perché i miei dicevo approfittato purtroppo non ho fatto in tempo a prendere la promo dei 16 campioncini in omaggio perché sono stupidina vabbè lasciamo perdere e quindi li ho persi però ho preso le cose che desideravo da un sacco di tempo a scontare allora in primis ho voluto prendere la mia amata precisely my brow pencil di benefit che è la matita che utilizzo di più waterproof 12 ore di tenuta look naturale insomma la conoscete perché io ve la faccio sempre vedere adoro questa matita e l'ho pagata mi sembra 20 invece di 30 euro una cosa del genere o 19 adesso non ricordo la colorazione che prendo io la numero 4 mi hanno mandato anche un sacco di campioncini due for porless a questo qua l'avevo già testato poi una maschera della bella per capelli colorati la proveremo e questi due che sono dei prodotti che questa qua la utilizza già mio marito questa quando la conosco ho voluto provare questo fondotinta dato che ne ho finiti parecchi in questo periodo ho voluto provarlo perché rostra curiosa è il nuovo fondotinta di make up forever l'hd skin io ho utilizzato per anni quello vecchia versione hd e che adesso se non sbaglio non fanno più o comunque non si trova più facilmente ho preso la colorazione 1n 14 il packaging è così la colorazione dovrebbe essere giusta perché avevo provato un campioncino fatemi sapere se volete che lo proviamo insieme questo fondotinta e se andate su un altro social su instagram lo vedete anche in alcuni miei ultimi look indossato il pezzo forte lei io questa quale desideravo tantissimo e l'ho pagata più di 20 euro in meno con gli sconti guardate che packaging meraviglioso questo qua è la norvina collection volume 5 ho già la volume 6 e adoro queste palette per la loro pigmentazione e professionalità dentro come potete vedere dentro è meravigliosa specchio enorme e colori super vibranti stupenda questa la desideravo tantissimo e sicuramente aspettatevi tantissimi look con questa perché guardate che colori ragazzi che packaging cioè guardate qua era proprio questa è la palette che ho desiderato di più nel 2022 cioè veramente la più bella in assoluto per me delle norvina anche più della volume 6 che ho già e questi erano tutti i miei acquisti